Al via il Green Day Erasmus, l'evento organizzato dall'Università di Cagliari è presentato questa mattina nella Facoltà di Economia, volto a sensibilizzare gli studenti Erasmus alla sostenibilità ambientale. Daniele Chirico di UTG. Sensibilizzare gli studenti alla sostenibilità ambientale. Con questo obiettivo, in occasione della Festa dell'Europa che si celebra oggi, l'Università di Cagliari ha organizzato il Green Day Erasmus nella Facoltà di Economia, un'iniziativa che mira a sensibilizzare gli studenti Erasmus sull'importanza della protezione ambientale e sull'adozione di comportamenti sostenibili e di pratiche che riducono l'impatto ambientale durante il loro periodo di mobilità. Ad attuare quindi pratiche ecosostenibili come il risparmio energetico, la riduzione dei rifiuti e il consumo responsabile, l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici per ridurre l'inquinamento. Una giornata dedicata ai ragazzi che hanno partecipato a questo grande programma di scambio culturale europeo, importante perché si mette al centro del dibattito, è un tema che coinvolge il dialogo intergenerazionale in formula piena. Noi siamo alla vigilia del vertice per il futuro che le Nazioni Nete hanno indetto per il 22 e 23 settembre, è un vertice nel quale si rimetterà in discussione il futuro per come lo vogliamo realmente, quindi no a una deriva tecnologica, no ad una deriva climatica fuori controllo. In che modo però Erasmus e sostenibilità ambientale vanno di pari passo? L'Erasmus mettendo al centro questi temi può far sì che i ragazzi nel dialogare con altri paesi, nel dialogare con i propri coetanei, possano rendersi conto della loro missione in questo percorso, diciamo, verso lo sviluppo sostenibile. Chi può mettere a terra questa sensibilità, farla diventare azione? I giovani perché sono nativi ecologici, nativi digitali, pronti ad un cambiamento. In questo senso, spiega il prorettore al territorio e innovazione Fabrizio Pilo, l'Università di Cagliari si sta già muovendo con numerosi progetti per favorire la sostenibilità ambientale. Unica ha un programma di sostenibilità molto avviato, siamo membri della rete universitaria per la sostenibilità e seguiamo la sostenibilità da tutti i punti di vista. Veramente siamo molto attivi su questo fronte e stiamo anche partecipando a delle gare internazionali proprio per capire come ci posizioniamo nel contesto internazionale. Siamo messi in una buona posizione ma la cosa importante è che di anno in anno miglioriamo sempre su tutti gli indicatori. Nuovo appuntamento domani alle 21 con Sardegna Impresa Talk. Scopriamo assieme il tema della nuova puntata. L'intelligenza artificiale, rischi e benefici, timori e opportunità è il tema della nuova puntata di Sardegna Impresa Talk in onda venerdì 10 maggio alle 21. Una puntata insolita che ha visto la nostra troupe trasferirsi in esterna per andare a scoprire le intelligenze in evoluzione di Maker Faire Sardegna, la fiera dell'innovazione digitale dei creatori della nuova era svoltasi a Olbia. Una finestra sul futuro prossimo, su quell'intelligenza artificiale di cui ancora poco si sa che offre importanti opportunità di crescita ma che viene vissuta col timore che un giorno, magari non troppo lontano, possa sostituire l'uomo. Ad esserne coinvolto è l'intero tessuto economico della nostra isola. Sardegna Impresa Talk è andata a conoscere i professionisti impegnati nel campo della moda, della ristorazione, della creazione di droni marini, docenti universitari e studenti e abbiamo raccolto molte curiosità e tante opinioni sull'uso dell'intelligenza artificiale. L'appuntamento è per venerdì 10 maggio alle 21. È disponibile da oggi 9 maggio in tutte le piattaforme Non Tu, il nuovo singolo del rapper turritano Pauz al secolo, Angelo Sanna. La canzone è in collaborazione con la cantautrice genovese Lobina, incentrata sul tema del bullismo tra i banchi di scuola. Alla realizzazione del videoclip hanno preso parte in veste di attori alcuni studenti della scuola elementare Borgona di Porto Torres. Sentiamo. È uscito il 9 maggio Non Tu, il nuovo singolo del rapper turritano Pauz contro il bullismo tra i banchi di scuola, fenomeno che l'artista ha vissuto personalmente sulla propria pelle, per cui invita il pubblico a non rimanere indifferenti. Il ritornello invece è affidato alla voce cristallina di Lobina, una delle cantautrici più promettenti della scena genovese. Volevamo lanciare un messaggio forte per quanto riguarda il bullismo all'interno delle scuole. È un argomento di cui si parla sempre troppo poco, soprattutto nonostante gli ultimi avvenimenti e gli avvenimenti che succedono ogni giorno, quotidianamente purtroppo. E quindi volevamo dare voce a chi al giorno d'oggi non ha voce in questione. A questo argomento. Al videoclip girato tra Genova e Porto Torres hanno partecipato alcuni studenti della scuola elementare Borgona di Porto Torres alla loro prima prova d'attori, un'occasione per sensibilizzare i più piccoli su un tema crudo sempre più attuale che segna la vita di chi è in oggetto e che si può e si deve prevenire facendo gruppo, tendendo la mano al più debole e coltivando l'empatia e il rispetto della diversità. Per me il bullismo è una cosa che non si dovrebbe fare, è una cosa molto brutta e bisogna sempre aiutare i più deboli. I compagni più deboli della classe non dovrebbero presi in giro ma aiutati e incoraggiati ed è molto molto importante che non si devono mai sentire solo. Per me il bullismo è una cosa senza spiegazione. Non è la prima volta che PAUS organizza queste iniziative, sono anni che il rapper tiene nelle scuole delle vere e proprie lezioni di vita. Bello, bello, è stato bello. Mi sono divertito tanto a fare questo video, sì. Apriamo la pagina degli spettacoli e degli eventi. Ha preso il via oggi la tredicesima edizione del Porto Cervo Wine & Food Festival, l'evento che promuove le eccellenze enogastronomiche della Sardegna, della penisola e oltre, di scena fino a domenica 12 maggio a Porto Cervo. Sarà l'attrice e modella Martina Colombari a tagliare il nastro della rassegna venerdì 10 maggio alle 14.30 al Cervo Conference Center di Porto Cervo. Enrico Ruggeri sarà la star musicale dell'edizione 2024 e si esibirà nella cena di gala di sabato 11 maggio all'hotel Cala di Volpe. Sabato 11 e domenica 12 maggio le degustazioni saranno aperte al pubblico al Cervo Conference. Conference Center di Porto Cervo. E ha fatto tappa a Cagliari al Teatro Massimo. Lo spettacolo vada a come parli di Paolo Borzacchiello, il coach, esperto di intelligenza linguistica e autore di libri di successo, era ospite della CEDAC. Il servizio è di Bruno Ghiglieri. Prima dello spettacolo un video promozionale e un po' autocelebrativo. Paolo Borzacchiello chi era costui, un divulgatore che insegna a usare bene le parole. Di mestiere fa il coach, esperto di intelligenza linguistica. La fama ha preso le mosse sui social nel mondo dei tutorial. Poi sono arrivati i libri, saggi e romanzi divenuti bestseller, oltre 300.000 copie vendute. E infine il teatro. Al Massimo di Cagliari, il suo spettacolo, bada a come parli, ha registrato il tutto esaurito. In sala, un pubblico variegato, numerosi, giovani, più avvezzi ad Instagram che alla vecchia televisione. Ma che cos'è l'intelligenza linguistica? L'intelligenza linguistica è di fatto, in modo molto sintetico, la consapevolezza di quello che le parole fanno, anche da un punto di vista scientifico, quindi al di là di quelli che sono i nostri gusti personali. Cioè sapere che ogni parola che noi pensiamo, leggiamo, pronunciamo, scriviamo, produce nel cervello delle reazioni che sono molto specifiche. E queste reazioni poi appunto si traducono in chimica, in ormoni, in stati d'animo e nella vita di tutti i giorni. A chi non ha mai letto i suoi libri e non ne conosce la figura, Borzacchiello può apparire come un comico dalla battuta pronta, allusioni, doppi sensi, autoironia e una costante ricerca di interazione con il pubblico, che da parte sua mostra di gradire e non lesina l'applauso a scena aperta. Lo spettacolo è organizzato dalla CEDAC tra gli appuntamenti di leggerezza, iniziativa dedicata alla promozione della lettura. E comunque un certo e tre lo fanno. Allora, quindi voi non li trovate davanti, o un passivo aggressivo. Ed ora lo sport. Atleti di 25 nazioni provenienti da tutto il mondo, oltre a 13 rappresentative regionali, in gara il 24 e 25 maggio, nella seconda tappa della Coppa del Mondo di Nuoto, in acque libere che si disputa a Golfo Aranci. Dopo la tappa inaugurale in Egitto, si torna in acqua in Gallura, con gli azzurri guidati da Greg Paltrinieri. E con questo terminiamo la nostra edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Grazie. Grazie. Grazie.